Veniamo ora alla questione nazionale. I movimenti di sinistra sembrano ancora fermi alla polemica tra Trotsky e Stalin. L'uno predicava la rivoluzione permanente, l'altro ribatteva con la necessità di giungere al socialismo reale all'interno reale delle nazioni, prima di espandere il conflitto al di fuori dei propri confini. Secondo lei la sinistra ha travisato l'importanza della questione nazionale? Ciò può dipendere dalle errate interpretazioni del pensiero di Marx riguardo alla supposta estinzione dello Stato borghese Tukur? Intanto devo dire che ho fatto non a caso un'intervista che forse non è molto conosciuta proprio sul problema dell'estinzione dello Stato perché si sono creati molti equivoci. Marx ha parlato di estinzione degli apparati coercitivi, ma anche in Stato e rivoluzione, non dello Stato in quanto apparato burocratico e amministrativo che cura determinati affari generali cosiddetti, quello va da sé che resta. Questa era una polemica che ho sviluppato anche con l'amico previ in passato che credeva che Marx parlasse dell'estinzione, ma non solo lui, anche lo surdo, tutti pensano che Marx parlasse dell'estinzione dello Stato, no dello Stato in quanto apparato burocratico, dell'apparato coercitivo. Come diceva Gramsci, è egemonia corazzata di coercizione. Se effettivamente si fosse creata una situazione di transizione verso una società non più basata sull'antagonismo di classe, su differenziazioni, quelle che Mao poi chiamerà le contraddizioni all'interno del popolo, ma senza più l'antagonismo di classe, se la visione dello Stato è quella di uno Stato che ha strumenti coercitivi per aiutare la riproduzione di un sistema in cui rimane classe dominante, quella classe che per Marx era la classe dominante, era la classe proprietaria dei mezzi di produzione, è chiaro che se termina, se si forma veramente quel corpo lavorativo, collettivo dall'ingegnere all'ultimo manovale, con il fatto che i capitalisti ormai diventano dei puri proprietari assenteisti, quasi signori dei rantier, eccetera, e quindi pian piano, pian piano o anche tramite un atto rivoluzionario, comunque questi vengono espropriati e si avvia una transizione verso il primo gradino della società comunista che era il socialismo, eccetera, insomma pian pianino venendo meno l'antagonismo di classe, mi pare ovvio che non ci sia più bisogno di strumenti di coercizione, ma che non esista lo Stato o che non esista anche la polizia, mica Marx fosse cretino, devo sapere che c'era violenza anche, non so, assassini, delinquenti o altre cose o anche furti, anche furti perché mica Marx parlava della proprietà dei mezzi di produzione, ma mica diceva che diventava collettivo tutto, magari anche l'orologio o certi beni propri, insomma, che uno ha, quindi insomma, sapeva benissimo comunque che la società ha bisogno di una organizzazione generale che noi chiamiamo Stato, ma insisto, il Marxismo, lo Stato è sempre distinto tra un apparato generale di amministrazione, eccetera, e l'apparato coercitivo che deve difendere un certo tipo di riproduzione del rapporto che lascia la dominanza, la predominanza alla classe proprietà di mezzi di produzione. Se veramente si fosse verificata la previsione di Marx della formazione del lavoratore collettivo cooperativo dall'ingegnero dell'ultimo manovale di questa quindi fine della proprietà nel senso capitalistico del termine, eccetera, mi pare ovvio che non c'era più bisogno della parte coercitiva. Tutto lì, non è che ci sia altro. Però è vero, detto anche questo, questo riguarda il problema dello Stato e dell'estinzione dello Stato, ci tenevo, comunque, ripeto, in YouTube si trova anche 16 minuti miei su questo problema in cui l'ho tratto un po' più diffusamente. Per qualche lato che riguarda la questione nazionale, sì, credo che in parte sia stata un po' sottovalutata, anche perché c'è stata questa idea dell'internazionalismo proletario che ha funzionato fino a un certo punto, perché sappiamo bene che alla fine si si sono battuti tutti i partiti comunisti, eccetera, non hanno mai impedito, per esempio la prima guerra mondiale, gli operai si sono scatenati lo stesso gli uni contro gli altri, nelle varie guerre coloniali, non scordiamoci cosa faceva il partito comunista francese, durante l'occupazione di Algeria, eccetera, non è che proprio si opponesse in modo strepitoso alla politica colonialista della Francia, alla fine le cose sono andate in un modo diverso, e non certo per merito del partito comunista francese, quindi è vero che questo internazionalismo proletario è stata una cosa molto ideologica, l'idea poi della rivoluzione permanente secondo me è stata, sì, una cosa molto bella, forse non so che poteva prendere i cuori, ma ritengo che abbia avuto ragione Stalin, solo che il problema oggi è di capire però che indipendentemente da quello poteva pensare Stalin se era in buona fede, in mala fede, se pensava di costruire il socialismo, se voleva costruire soltanto un potere personale, indipendentemente da queste cose, guardando comunque alla funzione svolta concretamente dal gruppo dirigente staliniano, dobbiamo dire che non si è mai neanche iniziata la transizione al socialismo, dobbiamo avere il coraggio di dircelo, però c'è stata effettivamente un'accumulazione originaria che ha portato a una società particolare che non riusciva a essere veramente capitalistica e però non era neanche appunto il socialismo e che tutto sommato però è diventata per molto tempo lo stesso una potenza, una forte potenza, tant'è vero che nella seconda guerra mondiale emerge come il secondo polo, praticamente nella seconda guerra mondiale vengono sbattute via Germania e Giappone, non se ne parla, ma anche Francia e Inghilterra sono battute in pieno e restano appunto gli Stati Uniti, l'URSS e poi dopo pian piano quel terzo polo, sempre la Cina che è sempre stata lì. Quindi tutto sommato ritengo che sia stata storicamente felice il fatto che nell'URSS abbia vinto Stalin, ma non per la costruzione del socialismo, per il fatto che si è creata comunque una potenza che per mezzo secolo almeno, diciamo, dopo guerra, si è opposta agli Stati Uniti e tutto questo ha di fatto un po' cambiato il mondo, comunque l'ha fatto entrare in una nuova fase, quella che viviamo tuttora. Ma anche qui dovremmo ripensare tutto, anche il problema nazionale, non può essere il vecchio nazionalismo, ma non sono neanche superati però completamente gli Stati nazionali, perché gli Stati dei Paesi che contano e dei Paesi che conteranno sempre più, man mano che avanza la situazione multipolare, questi Stati saranno ancora importanti e quindi saranno Stati con il loro territorio, con la loro popolazione, con tutte le varie caratteristiche nazionali. E poi ci sono Stati, sono Stati come la povera Italia, siamo strettamente in questo momento subordinati e quindi qui si può anche dire che lo Stato è un po' una burletta, dico lo Stato come ente di autonomia intendo. Comunque credo che anche come cura degli affari generali ci sarebbe molto da discutere, soprattutto in questi ultimi anni. Quindi non so se può essere soddisfacente, ma più di questo non saprei dire. Come vede io ritengo che sia veramente tutto da ripensare, ma veramente c'è un grosso salto che deve essere fatto dal punto di vista teorico e poi però questo significa anche con nuove pratiche e però occorre anche, per esempio non so dove potrebbe nascere un nuovo partito, si dice strutturato non so come deve essere, perché se non nasce niente non so come debba strutturarsi, ma soprattutto chi deve rappresentare è che cosa? I ceti medi? Bah, i ceti medi sono per il momento un bailamme, un quacervo di cose estremamente differenziate che non si capisce. La classe operaia secondo me non è mai stata una classe, ma a parte quella non voglio adesso entrare in discussione, ma insomma in ogni caso oggi come oggi tutti i paesi a capitalismo avanzato è sicuramente non residuale assolutamente, ci mancherebbe altro, ma insomma è un gruppo sociale esteso ancora, ma molto differenziato all'interno naturalmente, quindi ce n'è insomma da fare la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro salariato, ha importanza, ma non lo so, vedo una situazione molto confusa dal mio punto di vista, con le mie categorie teoriche per il momento non è che riesca a inquadrare, perché le categorie teoriche dovrebbero semplificare, no? Alla fine la teoria è un modo di semplificare la complessità del reale, se no non ci muoviamo mai e non reagiamo, e soprattutto visto che il reale è sempre in movimento, ci sbalza sempre di qua, di là, da tutte le parti, deve creare dei campi di stabilità, la teoria serve a creare dei campi di stabilità in modo da poterci muovere, poi se si fallisce evidentemente bisogna avere la forza di non cristallizzarsi su quella teoria di muoversi in altro modo, perché noi ci immergiamo in una corrente che ci porta, fissiamo un punto dall'altra parte della sponda e diciamo ecco lì miro, ci immergiamo, ma dopo quando riemergiamo ogni tanto, oh porca miseria, ci troviamo un po' più in là e vediamo, allora dobbiamo reimmergerci e cercare di ritrovare di nuovo un'altra strada, ed è sempre così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.